È una cosa semplice, non è certamente all'altezza di quelle che vengono montate nei centri città, però è comunque un sintomo di presenza, una luce che ti accompagna a casa. Il momento è difficile per tutti, da un lato la crisi economica, dall'altro i timori per la propria salute abbassano il morale e limitano l'ingegno di ognuno di noi. Il Covid è una brutta bestia, ma nonostante ciò non riduce la fantasia e l'abnegazione di tanti cittadini che grazie al loro ingegno riescono a far rinascere intere comunità. È il caso dei volontari di Piombino che senza nessun compenso e addirittura a proprio rischio e pericolo hanno deciso di illuminare alcuni quartieri della città con decine di stelle, una sorta di scia bianca che per ben 5 chilometri colora il cammino di molti residenti. Abbiamo avuto ingegneri che ci hanno fatto tutta la progettazione, abbiamo preso i patentini per poter salire sulle autoscale, per poterle guidare e così via. Ci siamo proprio strutturati in maniera tale che questo gruppo di volontari potesse fare un qualcosa di positivo per la città e che desse, come mi ha detto una signora una sera, una luce che mi accompagna a casa. Quello che andremo a vivere sarà un Natale diverso dal solito in cui i valori della partecipazione e della solidarietà avranno ancora più importanza. provane sono le decine di persone che hanno partecipato all'iniziativa Illumina Piombino.